Il concorso che si chiude oggi, ma parte ovviamente da molti anni fa, l'elemento, diciamo, la parte più complessa è stata il momento in cui, a causa del maltempo, l'idea liquido si intraversò andando a pianeggiare il fonte di un'idea. Evidentemente c'è un profilo che riguarda la tutela del decoro, dell'ingresso della cittadinanza, che è un profilo importante. Dal nostro punto di vista l'elemento che ci dava più preoccupazione era la presenza di un rischio permanente della sicurezza dell'ambito portuale e della navigabilità del canale portuale, unitamente al fatto che un relitto in queste condizioni costituisce di per sempre un inquinamento di Stato. Quindi, rimosso il relitto, otteniamo una serie di effetti favorevoli sia sul profilo che riguarda il decoro urbano, il paesaggio, ma anche l'agibilità del canale, restituiamo un tratto di penchina pubblica agli usi ordinari e quindi per noi è un rischio importante che, come dicevamo prima, viene conseguito senza oneri per la proposta. Grazie. Grazie.